Io sono il signor Ghoul, posso controllare i ballidi, questa è la mia abilità, temetemi! Sembrerebbe che io sia nella strada giusta, il ricetrasmettitore continua a segnalare la presenza dell'altro ricetrasmettitore, quello che mi ha mandato quello strano messaggio, e l'appuntamento era qui, al supermercato, devo stare in guardia però, perché non ci si può fidare di nessuno in questo posto. Anna? Ma che cavolo ci fa Anna al supermercato? Porca miseria! Oh, che cavolo sta succedendo qua? Che diavolo è questo? Me lo spieghi, chi è? Non lo so Anna, io avevo appuntamento qua dentro, ma cosa ci fai tu qua dentro Anna? Io ero qui nel paraggio, a un certo punto l'ho visto, mi ha puntato la pistola e io ho dovuto fare lo stesso! Manteniamo la calma, ok? Calmiamoci per favore, io sono qui con le migliori intenzioni, mettete giù le armi e io farò lo stesso, va bene? Non ci penso proprio, non è che sono buone intenzioni quelli che hai in mano! Anna, metti giù la pistola, dai, fidiamoci, fidati, fidati di me! Lionel se ci spara! Non ci sparerà, so chi è questo tizio, mi contatta da tempo e devo arrivare fino in fondo! Più o meno, ci ho parlato diverse volte, continuo a chiamarmi Lion, Lion, adesso me lo devi proprio dire, chi cavolo sei e che cosa vuoi da noi tu? Infame che non sei altro, con quel tono minaccioso che mi chiamavi ogni volta e non dicevi nulla, che cavolo vuoi? Perché diavolo ci ha chiesto di venire qui, scusa! Calmo, calmo, calmatevi, io mi chiamo Ghoul e sono meno fortunato di voi perché l'infezione mi ha portato fino alla, quasi fino alla tomba, vedete il colore della mia pelle? È bruciata dalle radiazioni e dall'infezione, però sono sopravvissuto e vorrei che anche voi sopravviveste perché avete qualcosa che mi interessa, per cui io do qualcosa a voi e voi date qualcosa a me, cosa ve ne pare di questo patto? Cosa, cosa potresti darci? Solamente la cura è l'unica cosa che ci può aiutare, no? No, non è solo quella, vedete voi siete alla ricerca di un bambino e io so dov'è questo bambino, so dov'è l'ospedale militare, lui vi aiuterà e dietro di me, alle mie spalle, camminate, pochi minuti in quella direzione arriverete alle sue porte, scoprite dov'è finito il bambino e avrete la soluzione a tutti i vostri problemi, ci rivedremo per il mio compenso quando tutto sarà fatto Ma scusa, ma non ci ha detto neanche qual è il compenso, non è, io non mi fido, Lion non mi fido Calmati Anna, non fare così, va bene invece, d'accordo, io accetto questo patto e vi dico che secondo me dobbiamo imparare a fidarci un po' delle persone che incontriamo, certo il suo aspetto non è molto, come si dice, tranquillizzante perché è brutto Però non per questo dobbiamo giudicarlo male Anna, forse vuole davvero aiutarci, magari quello che vuole non è così dispendioso e glielo possiamo dare Andremo a controllare signor Ghul, grazie Vieni Anna, togliamoci di mezzo però adesso perché fidarsi è bene Lion, il problema non è l'aspetto, anzi praticamente è l'unica cosa che non mi fa agitare in quella persona Oh, mi hai seguito, lo sapevo Non va allora, ti ho pedinato, lo so, era per il tuo bene Porca miseria, potevi farti ammazzare a rimanere qua fuori come uno scemo, perché l'hai fatto? Perché scusa, uno sconosciuto ti invita e tu ci vai senza dire nulla A parte che te l'ho detto e ti ho detto anche di non seguirmi Sì, ci sono andato e ho fatto bene Secondo me questo tizio ci vuole aiutare Mi ha detto di andare da questa parte, in questa direzione Oltre l'accampamento dei banditi suppongo E ti vuoi fidare di lui, ma l'hai appena conosciuto ed è abbastanza creepy, non lo so L'hai visto? Sono d'accordo anch'io, non ti puoi fidare Tra l'altro il tizio ha parlato di radiazioni Ha detto che la sua faccia è diventata così a causa dell'infezione e delle radiazioni Può essere che magari le radiazioni erano un primitivo tentativo di cura per l'infezione Ha provato di tutto forse Magari era un dottore, magari si è provato a curare Magari è per quello che sa dove è finito il bambino Bisogna andare fino a fondo E dici che faceva parte dell'equipo medica che gestiva quel laboratorio? Comunque presto lo risentiremo, il ricettrasmettitore ce l'ho Per cui non ho problemi a richiamarlo quando servirà Ma più che altro se vuole aiutare te Lui è ancora messo male, non è una cura, non è possibile Lui non ce l'ha, è vero Ma lui in realtà non è infetto, quindi potrebbe anche avere la cura E magari quello che su di lui non ha funzionato al 100% Perché ormai era già compromesso Invece a me, a te e Anna che siamo molto più in salute Ci porterà alla salute, ci farà stare bene, può essere Lion, io non lo so, c'è qualcosa che mi puzza in quella persona Non riesco a capire cosa, ma non riesco a fidarmi Vieni, passiamo da qua Allora, ho bisogno però che ci dividiamo Perché questa cosa è troppo pericolosa per essere affrontata tutti assieme Per cui, stre, rimani qua nell'accampamento dei banditi Occupati degli zombie E noi ci faremo vivi Non ti preoccupare, ti aspetto qui amico Molto presto, spero Bisogna vedere se questa cosa va bene Stai, do cavolo stai, miseria Eh, Mario Oh, salve Non è che avete visto Stefano in giro Perché l'ho perso Però c'è un'orda, Mario Sarebbe il caso di occuparsene Anna, ci penso io, eh Per favore, sono tantissimi Mi vuoi dire che cavolo ti è successo? Perché parli di nuovo tutto strano? Perché cerchi Stefano? Dov'è Stefano? Stava con me, ti ricordi, là dietro Certo E poi è sparito Si sarà perso Vabbè, oh Sei preoccupato? Oh, è una perdita di tempo portarsela appresso certe volte, fidati Stai fermo, calmati, fermati Ok? Ci sta che sei preoccupato, ok? È un'emozione del tutto normale che tu sia preoccupato per il tuo amico Siete sopravvissuti insieme, ti aiuterò a cercarlo, ok? Se non dovesse tornare No, ma grazie Però prima ho bisogno che tu venga con noi Anche perché non vorrei che ti perdessi di nuovo in quel vortice di pazzia Che ti ha contraddistinto negli ultimi mesi prima che io ti trovassi D'accordo, Mario? Ma no, fai strada Andiamo anche tu, Anna, vieni con me, forse Bisogna stare attenti, eh Va benissimo, sai di preciso dov'è? La direzione che lui ha indicato è qua Ed effettivamente Come ha fatto a sfuggirci per tutto questo tempo? Guardate È un posto enorme Non è una più quale l'idea Con delle belle inferriate E ci sono un sacco di infetti fuori dalle porte di questo posto, eh Guarda quanti, com'è possibile? Eh, questo è un segno Ma tu dico intorno, poi Vuol dire che qui c'è stato un sacco di via vai di persone, ve lo dico io E questo è un buon segno Perché significa che siamo probabilmente nel posto giusto, ragazzi miei Lion, considerando cosa c'era nel vecchio laboratorio, può essere che parte di questi vengono proprio da qui Sì, è vero Il posto è vicino, eh, del resto Poco, poca distanza Magari stiamo pure vicini alla cura Qui però Qualcuno deve aver fatto breccia nelle difese, eh E queste sono persone Probabilmente un'altra gang di criminali Mario, hai mai visto questo simbolo? Non m'è nuovo come simbolo, sinceramente Ma eravamo così tanti qua fuori, quindi non saprei chi sia Si erano formate diverse gang di... Oh, non sai quante Sopravvissuti, diciamo Voi eravate quelli col teschio, se non ricordo male, vero? Esattamente il teschio Questi invece hanno un simbolo diverso, due occhi piangenti E sì, hanno fatto una... Una spaccatura nelle inferriate di questo posto Ma perché? Per quale motivo dovresti assaltare un posto del genere? Un ospedale, in teoria Probabilmente sì E forse è proprio perché è un ospedale che hanno deciso di assaltarlo Perché probabilmente anche loro cercavano di trovare quello che cerchiamo anche noi, eh Devo raffinare la mia mira Ancora non sono per niente all'altezza dei riflessi che richiede questo posto Facciamo così Siccome siamo forse nel posto giusto Mario, potresti fare alla guardia quella breccia per me? Assicurarti che non entri nessuno? È un po' uscito di testa di nuovo, eh L'ho sentito, ma è come se perdendo Stefano abbia perso anche quel minimo di lucidità che aveva Eh ma è normale, erano insieme, sono stati insieme per un sacco di tempo Adesso da solo si preoccupa Qua comunque credo che qualcosa sia andato storto Perché dice abbiamo perso le comunicazioni con tutti gli altri campi Quindi c'erano anche altri campi, forse altri ospedali Se questo è un ospedale mi pare che sia Probabile, forse sono sparsi per tutto il paese in cerca della cura Potrebbe essere, però ci sono un sacco di cose qua dentro Un'ascia nuova, perfetta, mi serviva proprio Più che altro mi sembra di notare che la cosa sia successa molto di recente Sì, effettivamente questo posto si è tenuto molto bene, eh Ci sono un po' di soldati morti, eh Però Anna, probabilmente qui c'è davvero questo bambino Magari è ancora qui, magari possiamo scoprire come guarirci Sarebbe veramente bello, Anna Perché io inizio ad avere bisogno, eh Il punto è che ci servirebbe anche chi sta elaborando la cura Perché metti che il nostro stadio, non lo so, è più avanzato Io inizio ad avere paura dopo aver visto quella persona E se ci riduciamo come lui? Ma lui non era solo infetto, Anna Devi stare tranquilla A quell'uomo era successo qualcos'altro, te lo dico io Vai a vedere se c'è qualche altro indizio qui, però, eh Eh sì, probabilmente le cose sono iniziate ad andare male Quando hanno finito le provviste, eh Hanno dovuto iniziare a razionare tutto Magari qualcuno si è arrabbiato Magari ha iniziato una rivolta E poi è finita schifio come sempre, no? Finisce sempre male Infatti, probabilmente qualcuno ha seminato anche zizzania Per comodo suo Perché il generale non lo capisce? Tenere sia un campo di ribelli che Quel ragazzino malato Ci porterà alla disfatta Dovremmo liberarci in fretta del ribelle Il ribelle Aspetta, aspetta Il generale Non sappiamo se è lo stesso generale, però, eh Potrebbero essercene altri Cioè, ogni campo avrà il suo generale, immagino, no? Potrebbe aver senso È un po' strano, ma sì, potresti avere ragione Vieni, seguimi Proviamo a continuare a esplorare tutte le case Dobbiamo trovare sto bambino Se c'è Guarda, qui c'è C'è l'entrata di un bunker, guarda Di solito In laboratorio Comunque le cose più sensibili Si tengono al coperto Al sicuro Potrebbe essere Certo che di traccia di Persone vive qua Non ce n'è, eh In ogni caso sappiamo Che il malcontento è nato Per la presenza di un ribelle all'interno Sì, sì, è vero Ma chi era? Guarda, probabilmente lo tenevano qua Mi sa che era lui il ribelle, eh Guarda dentro Lion, inizio a capire Quegli standardi fuori Probabilmente il suo gruppo è venuto qui Assaltato per liberarlo Può essere E il ribelle era questo qua Però perché ribellarsi? Magari Magari è successo qualcosa Perché tenerlo più che altro? Le persone non volevano che lui fosse tenuto in vita Probabilmente erano preoccupati Un po' come abbiamo fatto noi, no? Io ho cercato di accogliere dei ribelli Però voi all'inizio non vi fidavate Avevate paura, no? Che potesse fare qualcosa Però è sempre un rischio Però bisogna mantenere anche un po' l'umanità E non si può rifiutare il soccorso a chiunque Per paura che possa essere un ribelle Comunque Anna rimane il posto più interessante Questo ospedale davanti a noi Pensi che sia lì? Per forza Per forza Tra l'altro io Su questo bambino Ho anche delle Delle strane sensazioni Secondo me lui è ancora vivo Però non credo che sia stato guarito del tutto Penso che in qualche modo Le tracce che abbiamo trovato Indicavano che effettivamente era ancora vivo Sì Vivo e vivo Però magari hanno trovato un modo Per tenere sotto controllo la malattia A tempo indeterminato Che già sarebbe buono per noi C'è un rapporto qui Cosa dice? Durante l'esplorazione giornaliera Ci hanno teso un'imboscata Credo sia opera dei ribelli Non capisco perché metterci gli uni contro gli altri Sì probabilmente era quel gruppo di ribelli Che ha causato la disfatta di questo posto Spero non abbiano fatto morire il bambino però eh Speriamo Ma può essere che i ribelli siano un gruppo Che si è distaccato da questo? Sì potrebbe essere Non li abbiamo mai incontrati Qua c'è una cartella clinica Gli esperimenti eseguiti sul ragazzo Potrebbe essere Non hanno portato a nulla Siamo un vicolo cieco Abbiamo bisogno di tecnologia più avanzata Per continuare Il ragazzo dovrà essere trasferito Il prima possibile Porca miseria Di nuovo? Non mi dire che siamo arrivati tardi Mi sa che purtroppo Io sto prendendo tutte le bende I cerotti sono la risorsa più importante Però purtroppo mi sa che siamo arrivati tardi eh Anche se Lion Qua terra Eh sì sì ho visto anche quello Ma perché c'è uno standardo dei ribelli Dentro la camera di questo bambino A parte che Lion e se l'hanno preso i ribelli Prima del trasferimento? Eh Comunque è decisamente diversa Questa stanza Rispetto a quelle a cui era abituato A stare questo bambino Perché si Ti ricordi L'ultima volta che abbiamo trovato Delle informazioni Si era parlato Di loro che facevano esperimenti Eh mi sa che infatti È quello che hanno fatto Perché guarda qua C'è un vassoio con sopra Del liquido organico Un pezzo di carne Magari hanno provato A fargli mangiare La carne di infetto Per vedere se la Cura funziona Che schifo Però sì Potrebbe essere Coi ribelli Anna Anzi mi sa che Può essere che l'abbiano portato via Prima del trasferimento Quindi A questo punto è sicuro È rimasto coi ribelli Quindi dovremo trovare I ribelli non ce lo daranno Facilmente Te lo dico io Anche se magari Non sono Selvaggi Magari avranno Un'organizzazione loro Magari hanno Te conoscono L'importanza di quel ragazzino Non ce lo daranno mai Magari stanno continuando La sperimentazione su di lui Probabilmente Chissà in che modo Sono disumani Sicuramente C'è di nuovo quel tizio Cosa ci fa qui? Non lo so Non lo so Lion non mi piace Probabilmente voleva Controllare Che noi fossimo Effettivamente Arrivati a destinazione E che avessimo trovato Quello che cercavamo E se lui fosse parte Di quei ribelli? Potrebbe essere Spiegherebbe perché sapeva così tanto Perché sapeva dove cercare Esatto Però l'informazione che ci ha dato Non è Anna? Anna? Com'è possibile? Non ne ho idea Non ne ho idea Non ne ho idea Mi viene da pensare Che li abbia portati qui Quel tizio Però questi Perché questi Sappiamo che sono stati creati In laboratorio Sì esatto Questi sono creati In laboratorio Sono anche molto più pericolosi Degli altri E solitamente Non girano Allo stato brado Dappertutto così A meno che non vengano Sguinzagliati da qualcuno E se quello fosse Che ne so Uno scienziato ribelle? Ma perché fingere di aiutarci Se dopo ci vuole far morire? Non ha senso Non è detto che sia stato Un aiuto il suo Mario? Com'è andata dentro? Attento È andata abbastanza bene Però Non so se non ti sei accorto Ma È entrato Un tizio Qua non è passato Assolutamente nessuno Ci deve essere un altro ingresso Questo lo sospettavo Secondo me Non c'è un altro ingresso Secondo me Lui vive proprio qua dentro Cioè quel tizio Vive qua dentro E secondo me Chi è quel tizio? È un tipo vestito Con un impermeabile Ha la pelle molto gialla Corrosa Probabilmente dalla malattia O dalle radiazioni Fatto sta che Secondo me Vive dentro quel bunker Che c'è lì in fondo E Ti dico anche una cosa Probabilmente adesso È meglio non andarci lì Torneremo all'accampamento Aspetteremo Ci torneremo tutti Cercheremo Stefano Perché te l'ho promesso Oh bene Poi torneremo qui E proveremo a Ficarci dentro quel bunker E scoprire Se è lui lì Anche perché adesso probabilmente Se lo aspetta Sì infatti Prendiamo anche stregatto C'è bisogno qui di fare Una riunione tutti insieme Di capire come procedere Perché la cura ci serve Ma più di tutto Ci serve restare uniti Laio Meno male che ti ho trovato È successa una cosa strana Un'altra Ho visto qualcuno Che tipo non so Stava veramente Comandando i palli Quegli zombie strani Ho capito Era per caso Quel tizio che abbiamo visto prima No ti giuro Non l'ho quasi potuto vedere Era come incappucciato Era lontanissimo poi Ho capito Un tizio incappucciato Che ha comandato Gli zombie pallidi Beh devo proprio che Lì seguivano Non credo che sia il tizio Che ci ha dato le informazioni Però perché se ci avesse Voluto uccidere L'avrebbe potuto fare Anche prima Secondo me c'è anche Qualcun altro Che è interessato Al bambino Dimmi un po' La cura Come siamo messi Non benissimo purtroppo Non puoi dire così Non puoi dirlo Non puoi abbandonarmi Infatti non sto Non sto Abbandonandomi Al nostro destino Sono sicuro Che la troveremo Ragazzi attenti però Perché ci sono un sacco Dei pallidi qua fuori Anche qua Anche qua Vai buttatevi Com'è possibile Maestre buttati Fai il tuo meglio Uccidili tutti Ci vado io Non ti preoccupare Bravo Bravo Mi piace Questo è l'eroismo Che c'è bisogno Difendiamo questo accampamento Come se fosse la nostra casa Perché è l'unica Che abbiamo Ok Cascifosi è pieno È pieno Ce ne sono un bel po' Chi è che ce li continuo a mandare Però almeno adesso Non riescono a entrare Venite Entriamo dentro Alex finalmente Ma dentro Dobbiamo rientrare Correte Entriamo tutti dentro ragazzi Dobbiamo approfittare Di un attimo di tranquillità Per discutere il punto Della situazione Io ti devo dire una cosa Urgentissima Ho visto qualcuno Che non erano zombie E c'aveva dietro Quei zombie bianchi Anche tu Un tizio incappucciato È la stessa cosa Che ho visto io Mi sa di sì Era lui C'aveva pure un cappello Un cappello Un cappello Oddio potrebbe essere anche Ma guarda Quanti ne sono entrati Ma altro che incappucciati Questi sono Ce ne sono di tutti Cioè si è rientrato Tutto l'accampamento Alex Perché non hai protetto L'accampamento Lion Guarda quanti sono Io da solo Non riuscivo a far nulla Più che altro Penso che dietro Ci sia ancora Quella frattura Ancora quel buco Dentro la rete Dovremmo ripararle Infatti Ma l'avevamo aggiustata Mi pare Qualcuno deve Io l'altra volta Ma qualcuno deve aver rirotto Di nuovo la rete Mi stai dicendo questo Ma guarda Probabilmente Ha rotto la rete Da un'altra parte Perché qui è tutto integro Io non capisco Lion ti giuro Cioè non c'era nessuno E dopo un momento Dopo aver visto quella figura Sono entrati anche Quest'altri zombie Venite Entriamo dentro casa Se ci fosse un altro passaggio Secondo me qualcuno Ci sta tramando contro Effettivamente Siamo un gruppo numeroso Quindi Chiunque potesse essere interessato Al controllo di questo posto Di questa zona Sicuramente Vuole il nostro male Ricordatevi Senza contare che abbiamo scoperto Dell'esistenza di un altro gruppo adesso Sì abbiamo scoperto L'esistenza di un gruppo di ribelli Che non è il gruppo Di Mario e Stefano Sono altri ancora E chissà E quanti ce ne sono L'unica cosa che penso Posso aiutarci adesso È trovare la cura Se la troviamo noi Prima degli altri Non c'è da dubitare Che tutte le gang Di questa zona Verranno da noi Chiedendoci Di poter usufruire Della cura Potremmo creare Un gruppo unito Sarebbe meraviglioso L'unico problema È che abbiamo Tanti nemici Uno tra tutti E che secondo me È quello che sta creando Questi problemi Al nostro accampamento Ovviamente È il generale Perché lui non è morto Anzi Sta benissimo Ha abbandonato il campo Ma Sicuramente adesso Sta cercando di riformare Un gruppetto intorno a sé Perché tutte le guardie Che aveva Sono andate perse Quindi è debole Io sono convinta Che gli zombie Normali che arrivano Li sta dirottando lui Verso di noi Ma i pallidi Invece è qualcun altro Che ce li manda Sì i pallidi Vengono da un laboratorio Abbiamo scoperto questo Quindi siamo sicuri Ma quindi tutti qua fuori Sanno come si controllano Sti zombie Tranne noi No probabilmente È solo un gruppo Che lo sa Forse quelli che l'hanno creati Magari gli stessi Che lavoravano Con il bambino Che adesso non vogliono Che noi lo troviamo Non possiamo Fare troppe supposizioni Ma perché il mondo È così Noi stiamo cercando La cura E tutti ci odiano Ci rimano contro Perché probabilmente La vogliono anche loro Quando c'è poco Di qualcosa Tutti tendono A volerla tenere Per sé In modo che no Se ce n'è poco Basterà solo per loro Infatti non è rischioso Portare la cura qua Cioè ci attirerebbe Solo troppe attenzioni Che non vogliamo Allora lui Prima di essere una cura È un bambino però Quindi noi Se è nelle mani Di persone sbagliate Che lo stanno sfruttando E stanno facendo Sperimentazioni su di lui Noi gli dobbiamo La salvezza Poi se lui Potrà esserci d'aiuto Con la sua volontà Per trovare una cura Per noi Allora sarà meraviglioso Però prima di tutto Dobbiamo toglierlo Dalle grinfie Di chi sta facendo esperimenti E metterlo al sicuro Non abbiamo molto E come lo troviamo Se l'hanno preso i ribelli Non abbiamo indizi L'unica cosa che sappiamo È lo standardo Di questi ribelli Che sono due occhi Piangenti Su sfondo bianco Potremmo chiedere in giro Magari qualcuno Sa di qualche accampamento Ma non abbiamo amici Non conosciamo molte persone A cui chiedere Ci sarebbe il generale Ma io sinceramente Ho paura di andarlo a pescare Ma per favore Ti pare che ci dica qualcosa lui Ma sicuramente lui lo sa L'unica alternativa È il tizio Con la pelle gialla Quello è lui Sono tutti i zombie No probabilmente Non è lui Che porta gli zombie Ma magari sa tante cose Di quello che succede Qua fuori Visto come stava messo No? Sì secondo me Lui è dalla nostra parte Cioè non perché Ci voglia bene Ma più che altro Perché Gli conviene Secondo me Lui vuole qualcosa da noi Non mi ha detto che cosa Ma gli serve Che noi Non vuole che noi moriamo Secondo me Quindi questo è Buono Possiamo sfruttarlo A nostro vantaggio Proverò a contattarlo Ragazzi Datemi Datemi del tempo Provo a mettermi in alto Anche se Solitamente è lui che Contatta me Ma Non posso aspettare la chiamata Devo provare a far funzionare Questo aggeggio Vediamo un po' se Mi riceve qualcuno? Qualcuno mi riceve? Goal Ti chiamavi Giusto? Signor Goal Ma che Niente Bisogna andarlo a cercare Ragazzi purtroppo Niente? No Sembra che sia solo lui A poter contattare me Io Non posso Non mi risponde Non so neanche se riceve i miei messaggi O se deve avviare Lui la comunicazione Noi l'abbiamo visto prima Ci stava palesemente seguendo Se non possiamo contattarlo adesso Significa che ancora non ti vuole dire nulla E questo non mi piace Però noi sappiamo dove trovarlo Quel bunker Dentro l'ospedale militare Secondo me lui è lì Perché quando ne l'abbiamo visto lì dentro Lui poteva solo essere già lì dentro Perché Mario era alla porta E c'è solo un'entrata Chi mi vuole accompagnare in quel posto? Io lo faccio Non ti devi preoccupare Contati su di me Quando vuoi ci sto Io allora rimarrò qua all'accampamento Bisogna difenderlo No No Tu sei rimasto già molto qua dentro Non voglio che tu ti arrugginisca Verrai tu Verrai tu E voi due rimarrete qui A difendere l'accampamento Ok? Puoi contare su di me Lion Andiamo Ragazzi mi raccomando È una missione importante E se lo troviamo Non dobbiamo attaccarlo noi per primi È importante che noi ci facciamo vedere Come se siamo dalla sua parte Perché così Noi stiamo andando nella sua tana Non è che lui magari reagisca in modo Che ne so Violento Potrebbe farlo eh Però noi non possiamo avere paura della sua reazione Anna Ti devi sbrigare Non ti fermare a combattere gli zombie Anna Non mi sto fermando assolutamente Però non lo so Se fosse una trappola Nah Perché dovrebbe esserlo? Sei troppo sospettosa Non so se Perché ci ha mandato lì se sapeva che il bambino non c'era più? Perché magari Ma si ma magari voleva che noi trovassimo Voleva che noi scoprissimo Tutte le tappe che questo bambino ha vissuto no? Quindi prima è stato lì Poi probabilmente l'hanno spostato da un'altra parte Se lui ci avesse detto direttamente magari La fine che ha fatto Non ci avremmo creduto E allora Ha scelto di farci scoprire mano a mano Quello che è successo a questo bambino Ti sta raccontando la sua storia praticamente Magari era suo figlio che ne sai Cioè Tutto dobbiamo pensare In teoria abbiamo visto i genitori morti Cioè abbiamo visto le tombe Eh Sì È vero Però Per essere un parente magari Guarda che lui comunque non è che sta messo così bene Questo tizio Si può mai pensare che possa essere morto e risorto O che magari è un mezzo zombie Ma non del tutto Non lo so Che non sia mai effettivamente morto Esatto Do tutto bisogna pensare In questa situazione non possiamo avere certezza di niente Tranne del fatto che probabilmente lui è dentro questa parte Questo bunker Quindi io direi Che a questo punto Ci entriamo Tendiamo tutti e tre Sì Ultima chiamata per te Signor Ghoul Se non vuoi che entriamo qui Chiamami adesso Ti ripeto Stiamo entrando qua sotto Se Oddio No 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 Lion Perché ci sono quegli zombie Non ha senso Tutto a un tratto La tua idea Che lui possa controllarli Si fa un po' più realistica Effettivamente Magari non vuole controllarli Magari loro lo difendono Ecco ci avete pensato Non possiamo aprire questa porta però eh Beh uno solo dai No non può Non era uno Non era uno Era più di uno Sì Guarda guarda come si Mamma mia come si lanciano Come sono Quasi si contorpano Vi lascia tenerli Eh Oddio Occhio Ci sono anch'io Ci sono anch'io tranquillo Ce n'è altri Ok Forse sono tutti Sì Forse sono finiti Per adesso Lo sapevo che c'era un altro laboratorio Era troppo piccolo Quello di sopra Comparato a quello che abbiamo trovato Sotto la montagna E secondo me questo è abitato eh Però è abitato da qualcuno Che per qualche motivo Non viene attaccato da quei pallidi E io ho l'impressione Che sia proprio il signor Goul Se ci pensate Il Goul Che cos'è È tipo uno zombie no È una specie di Sì esatto Che però ha mantenuto la sua coscienza Esatto Dici per quello che ha scelto quel nome Secondo me sì Lui è un Goul Cioè è uno zombie Che però non è uno zombie Quindi gli zombie non lo scambiano per un umano Ma per uno di loro Esatto Lui è una specie di tramite tra noi e gli zombie E questa cosa è buona eh ragazzi Ha una conoscenza che noi non abbiamo Per lui Non per noi Anche per noi Perché se lui è nostro alleato È un alleato prezioso Può andare dappertutto Senza che gli zombie lo attacchino È una cosa allucinante Io sto pensando una cosa Lion Ma non è che lui È lo stato avanzato Della vostra malattia Eh questo pure potrebbe essere Però in realtà non credo Perché lui ha fatto qualcosa Con le radiazioni Ha detto Quindi probabilmente Si è autoindotto Questo stato Di sopravvivenza Da zombie Sarebbe l'ultima spiaggia Anna Se non riusciamo a curarci Possiamo diventare come lui Però Se fosse proprio necessario Ma non so se vorrei Meglio della morte Dai ragazzi Però saresti più morto che vivo In quel caso Gambe in spalla Dobbiamo esplorare questo posto E cercare il signor Bull E se c'è lui